ragazzoli belli benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video oggi ragazzi vi propongo un video molto molto interessante come avrete visto sicuramente dal titolo ragazzi oggi vi continuo a portare la challenge delle armi di una sola rarità come avete visto ragazzi sono già due settimane che vi sto appunto proponendo delle challenge qui sul mio canale abbiamo portato le challenge delle armi grigie e delle armi verdi e oggi vi porto la challenge delle armi brù io spero ragazzi ovviamente questo tipo di format e questo tipo di challenge vi piacciono ovviamente vi invito a farmelo sapere qui sotto nei commenti e a lasciare ovviamente un mi piace a questo fantastico video e inoltre ragazzi vi ricordo di supportarmi nell'item shop di fortnite andando semplicemente appunto nell'item shop cliccare sul rettangolino in basso a destra e andare ad inserire il mio nickname del creator code ovvero con automist accettare e il gioco sarà fatto inoltre vi ricordo ragazzi che qui sotto in descrizione troverete tutti i miei link ai miei social soprattutto instagram che è il social che utilizzo per stare in contatto con voi ogni singolo giorno e vi ricordo anche ragazzi che io sono in live streaming tutti i giorni dalle 12 alle 4 e dalle 8 all'una di notte il link lo trovate sempre qui sotto in descrizione quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e godetevi questo fantastico video si vola si vola si vola si vola stavo registrando scusate ci conviene andare qua vicino perchè se troviamo armi di più materiali ce le facciamo là e allora andiamo sì là andiamo là di qua saremmo meglio sì 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 andiamo andiamo all'interno ma più che altro perchè sono le armi blu l'hanno veramente risosissima questo sarà molto difficile cioè una volta che abbiamo il loadout è facile ci servono solamente le armi perchè se riusciamo ad trovare per esempio un un tattico blu è una r blu è finita siamo messi benissimo il problema è trovarli trovarli uno scillone peccato la speranza è che peschi e trovi qualcosa di utile io non ti posso eh sì ho fama anche blu io non ti posso aiutare vuoi aprire la cassa sì sì speriamo in una fiocina anche per me perchè questa qua è veramente complicata nel minimo troverai solo flopper ho trovato un tattico blu oh ok quello è tanta roba eh c'è anche la pistolina blu ok tattico blu anche per te ma questo è bucio eh questo è eh già ok io direi di andare a bucchiare allora va 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 andiamo 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 oh c'è uno qua da me come va a sapere che sono qua wait 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 strana sta roba questo qua è uscito da sloopy per pushare noi vado a curarmi nella fontana ok no ha nessuno più che spara mi passeranno erano tre team uno l'abbiamo ammazzato noi sì sì stanno fuori a reboot non può fare reboot ma sono fuori ok infatti morto arrivo da te posto ok dici nice 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 ok allora ragazzi prendiamo le smg verde e le l'aire verde soltanto per fare l'upgrade ma non le utilizzerò ovviamente anche perché se no sarebbe un cheat e a loot mi fullo per bene qua anche perché amassino veramente pochissimi allora io mi faccio l'aire blu e anche le smg blu ok io l'ho dato perfetto smg tattico e air blu con una con una scildona c'è un air blu l'ho appena trovata non posso la scudone air blu l'hai trovato sì ho trovato la cassa perfetta per la challenge e bisogno di munizioni perché io non ho tantissima no ne ho 268 non so come ok ah visti due arrivo ma skinnalla deriva non la vedevo da un sacco hai skinnà 38 blu 33 scusami sei e l'otto shield uno io con l'altro l'altro dov'è? è morto smg blu se ti serve sì sto allettando ora qui rpg viola ma dove la trovano sta roba oh 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 rpg blu what the what the ok ora puoi farla vamo vamo solo hit o grido non lo hitterà mai what the lo hit sicuro? hitato è stato quello sopra sono arrabbiati questi eh uno spasso non ci credo ha dei nike una nike una nike una nike ma a terra ok uno che puccia sotto ok mi dobbiamo fare una scudona hitato è morto ok ok buona 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 ok guarda guardami un altro scudone tieni madonna lo scaroro ma come facciamo arciare lo scaroro qua ha 7 player quindi sono due team e uno dove stanno o ora di questa bush però un razzo dai era troppo lì 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 anche qua allora ho fatto tu il solo muonchetto minueto guarda il ce also buono faccio una scildona vedi che hanno tutto quello con lo spasso coverati faccio il big e deriva la tipa rosa la bomberò la rosa sono entrato in low giusto 56 1 no carissimo rigenta ma tu no riguarda le rpg e la safe ha tentato di andare via lasciali lasciali ma non abbiamo vita questo è un problema serio io c'ho 702 di mazza campano non c'è nessuno nei denagri no sono qui vicini è rotto c'è da rotto c'è quello sotto 105 è quello del bomberò lo che sto sentando ora lo sotto 105 d'accordo uno last one bianco ora capito al primo traie abbiamo tanta fortuna comunque non il lotta l'inizio che tu hai pescato con la fiocina blu trovato due tattici blu 22 easy al primo trai ed